Salvato un uomo intrappolato nella sua abitazione travolta dal fuoco è accaduto la scorsa notte a Bassano del Grappa in provincia di Vicenza. Il padrone di casa era già riverso a terra nella stanza avvolta dal fumo. È stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. I pompieri sono entrati abbattendo la porta d'ingresso. L'uomo è stato portato all'esterno. Gli sono state prestate le prime cure con la somministrazione di ossigeno. Poi è stato ricoverato in ospedale. È accaduto verso le tre della notte in un alloggio hatter in un appartamento al secondo piano di un condominio. L'uomo 59 anni è stato salvato in extremis grazie alla prontezza dei vigili del fuoco. La casa è rimasta gravemente danneggiata. Paura tra i condomini ma fortunatamente è stata evitata la tragedia.